Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo arrivati al settimo tutorial su Crypto.com quest'oggi introduciamo l'exchange che è una cosa diversa rispetto all'applicazione di Crypto.com ma voglio parlarvi della possibilità di avere delle criptovalute a 50% di sconto tramite il syndicate andiamo a vedere che cos'è e come funziona dopo la solita sigla Allora nel video di oggi ragazzi andiamo a vedere che cos'è l'exchange e la piattaforma di Crypto.com però attenzione non è la stessa cosa ad avere l'applicazione su mobile anche se potete unirvi a Crypto.com Exchange con lo stesso account dell'applicazione ha delle funzioni diverse ad esempio ha un exchange vero e proprio dove poter fare un po' quello che fate ad esempio su Binance il market order, limit, take profit e tutte quelle cose un po' da trader ha la possibilità del lending, lo stake, learn, il syndicate cosa che andremo a vedere oggi che permette di avere delle criptovalute appena listate al 50% di sconto andiamo un attimo a vedere il dettaglio come funziona questa parte dell'exchange di Crypto.com siamo sulla pagina ufficiale, come ho detto potete accedere con i vostri dati dell'applicazione e viene indicizzata subito in italiano soprattutto per quanto riguarda lo stake direte ma che differenza c'è tra metterla in staking, CRO, dall'applicazione ed eventualmente dall'exchange? beh mettendo i staking CRO nell'exchange si può partecipare al syndicate come ho detto poter ottenere anche il 50% di sconto su alcune criptovalute ad esempio guardate qua a destra possiamo ottenere il 50% di sconto sul prossimo listing che sarà Flow allora intanto per registrarvi vi lascerò il mio referral link in descrizione e se avete piacere di registrarvi con il mio referral aiuterete a supportare sia me che il lavoro che sto facendo adesso vi spiegherò anche come in ogni caso registrandovi all'exchange avrete due bonus il primo bonus è quello derivante al primo deposito che arriva fino a 500 CRO che equivale al 2% del primo deposito indicazione principale il deposito deve venire da fuori quindi non deve essere nell'ecosistema Crypto.com quindi il deposito non deve avvenire dall'applicazione di Crypto.com ma da un exchange esterno o da un wallet esterno se no il bonus non verrà accreditato il bonus fino a un massimo di 500 CRO viene automaticamente messo in staking per un totale di blocco di 180 giorni il secondo bonus è quello del referral link ovvero se vi scrivete tramite il mio codice referral dovete ultimare il KSE quindi completare la registrazione ottenete il bonus di circa 10 dollari se mettete in staking 1000 CRO e di 50 dollari se ne mettete in staking 5000 questo bonus che viene elargito a differenza del primo sarà direttamente tradabile all'interno dell'exchange quindi non sarà messo in automatico in staking e vincolato mettere in staking poi il CRO ha diversi vantaggi ad esempio potete avere degli sconti anche sulle fee come potete vedere dal menu a tendina a seconda dei CRO che noi mettiamo in staking il primo step 5000 CRO possiamo avere degli sconti sia sul maker che i taker come vedete qua in sovraimpressione comunque non è questo il video dove voglio farvi vedere l'exchange vero e proprio e tutte le altre differenze che andremo a vedere sicuramente nei prossimi video ma oggi voglio parlarvi del syndicate quindi come avere degli sconti fino al 50% sulle criptovalute che vengono listate quindi diciamo che in questo caso si tratta di un guadagno assicurato perché prendendole già il 50% di sconto va da sé che abbiamo già un vantaggio l'unico problema è magari quante criptovalute in questo caso flow, quanti flow riesco ad accaparrarmene vedete qua un conto alla rovescia a tempo rimanente dall'inizio della vendita 4 giorni e 8 ore uno dei parametri più importanti per ottenere queste criptovalute in sconto è la quantità di cro che si riesce ad avere in staking per questo servizio in questo caso come potete vedere alla voce offerta totale tasso di sconto abbiamo nella pool un valore di flow per un totale di 50.000 USD ha uno sconto del 50% per poter partecipare bisogna rispettare alcuni requisiti in più importanti come vedete dalla tabella dobbiamo avere ad esempio 5000 cro in stake e 5000 dollari di volume di trading negli ultimi 30 giorni quindi oltre ad avere lo staking bisogna comunque movimentare fare dei trading in 30 giorni quindi bisogna usare questa piattaforma questa exchange per un valore di 5000 USD disponendo di questi requisiti si può ottenere ad esempio l'allocazione massima indicata di 500 USD attenzione però allocazione massima non è detto che la riceverete perché appunto è massima vuol dire che ci sono delle variabili dipende anche da quanti utenti ci sono perché dobbiamo ricordarci che tutte queste allocazioni che noi riusciamo a ottenere vanno sempre rapportate ai 250.000 dollari che sono messi nella pool di syndicate quindi se ci sono tanti utenti la nostra allocazione pur rispettando questi valori potrebbe scendere se ci sono gli utenti esatti per riuscire ad avere i 250.000 dollari per riuscire a vendere i 250.000 dollari di allocazione dentro la pool di syndicate in quel caso lì noi avremo il massimo quindi 500 USD la stessa cosa vale se ci sono meno utenti rispetto alla distribuzione come facciamo a partecipare? innanzitutto a evento quando sta per iniziare qua avremo comunque dei dati l'app stimato il contributo totale quindi già da quanti CRO ci sono bloccati più o meno si può andare a capire l'entità di questa partecipazione ci sarà scritto iscriviti qua al posto dell'escrizione inizierà a breve e ci verrà detto in automatico se rispettiamo i requisiti richiesti per partecipare dopodiché verremo avvisati di quale fetta di mercato in questo caso di flow noi ci potremmo aggiudicare se accettiamo vuol dire che i nostri CRO si verranno convertiti in questo caso flow al 50% di sconto se invece non accettiamo decidiamo di uscire da questa raccolta i nostri CRO non verranno convertiti essendo le cripto scontate del 50% potete ben capire che partecipando in base anche a quante cripto riusciamo ad ottenere è quasi come avessimo già fatto un per due di guadagno siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video vi ringrazio come sempre per l'attenzione e la disponibilità che avete nei miei confronti guardando i miei video tutti i giorni vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di unirvi alla nostra community telegram per fare due parole insieme a noi noi ci vediamo domani con un altro video